Copiare un marketing che funziona. Oggi voglio parlare di questo tema perché ricevo domande alquanto strane. Diciamo che mi rendo conto che c'è tanta confusione su quello che noi vediamo fare, i risultati che vediamo che qualcuno può ottenere e diamo per scontato che replicando la stessa azione otterremo gli stessi risultati. Il problema è che non è assolutamente così. Cosa voglio dire? Che se tu hai un'attività, lanci un prodotto e questo prodotto ha un successo clamoroso, non significa che se hai lo stesso prodotto, lanciato da te allo stesso modo, avrebbe avuto lo stesso successo. E per spiegarti questo concetto faccio un esempio un pochino strano che però rende benissimo l'idea. Immaginiamo questa situazione. Tu vedi un ragazzo che chiede ad una ragazza di sposarlo e vedi la ragazza felicissima accettare. Dici, interessante questa cosa. Poi ne vedi un altro e anche in questo caso la ragazza accetta. Ne vedi un terzo, un quarto, un quinto e inizia a pensare che sia sufficiente chiedere ad una ragazza di sposarlo per ottenere un sì e quindi, diciamo, arrivare al matrimonio e costruire una famiglia. Ora, l'esempio è veramente esagerato e assurdo perché è interessante da utilizzare, perché tutti ci rendiamo conto di come la proposta di matrimonio non sia altro che la punta dell'iceberg, nel senso che dietro c'è molto molto di più. Non è sufficiente chiedere ad una donna di sposarti ma è tutto quello che c'è prima, che noi non possiamo vedere, che fa veramente la differenza. E questo è esattamente ciò che succede nel marketing. Quindi quando noi vediamo un'azione fatta da un nostro concorrente, magari un'azienda che ammiriamo, e vediamo ottenere un determinato risultato, quindi il sì, nell'esempio del matrimonio, non sempre questo risultato è dato solo da quella semplice azione, quindi dalla richiesta, ma c'è tutto un processo, una relazione che si è costruita tra il cliente e il brand o la persona, nel caso sia una persona che ha fatto, diciamo, questo lancio fantomatico che menzionavo prima. E se invece noi crediamo che il risultato, quindi questo successo nel vendita, questo sì alla richiesta di matrimonio, sia dato solo da quella singola azione, ci rendiamo conto che la nostra visione del business è completamente fallata e distorta. Di conseguenza cosa succede? Che cerchiamo di copiare alcune strategie, alcune tattiche, e poi ci rendiamo conto che non funzionano. Proprio perché quello che noi vediamo è solo la punta dell'iceberg e non vediamo tutto quello che c'è sotto. Quindi quello che dovremmo fare è cercare di guardare oltre la superficie, al di là della punta dell'iceberg, sotto la superficie, perché se quella singola richiesta, quell'azione è la punta, è ciò che è stato fatto prima, in passato, che non tutti riescono a vedere, che fa veramente la differenza. Più saremo bravi a vedere cosa c'è sotto, più saremo in grado di capire effettivamente quale strategia si nasconde, la vera strategia di fondo che poi ha supportato tutta l'azione che ha finalmente portato a quello risultato. Però è importante non concentrarsi solo sull'azione finale, altrimenti veramente succede che si fanno copie su copie di copie e poi non si ottene il risultato che si sperava, semplicemente perché siamo scesi in strada e abbiamo iniziato a chiedere a donne di sposarci e queste giustamente ci hanno detto di no. Ecco, è esattamente quello che accade. Per cui cerca di ampliare la tua conoscenza di marketing in modo da essere in grado di capire cosa ci sia oltre la superficie, perché il vero successo si nasconde lì, non dalla singola proposta di matrimonio. Con questo è tutto, io sono Massimo Martinini e ci sentiamo domani. Ciao! Aggiungo, per mantenere questo paragone assurdo, se tu vedi due persone che decidono di sposarsi, è ovvio che non sia l'azione, la frase vuoi sposarmi che abbia portato al sì. Quindi cosa puoi fare? Se hai una coppia che conosci, ad esempio, quindi immaginiamolo come un competitor, un tuo concorrente che stai seguendo da tempo, o un'azienda che ammiri, che segui, che appunto stai seguendo da tempo, cerca di guardare cosa è successo prima, quindi questa tua coppia di amici, come viveva, cosa faceva, erano felici insieme, hanno fatto esperienze particolari, ora è abbastanza simbolica questo esempio, però il punto è che riuscire a capire come è stata costruita la relazione tra chi ha fatto l'offerta, il brand che stai seguendo e via dicendo, e i clienti che successivamente hanno accettato questa offerta, che l'hanno resa un successo, ecco, è lì veramente la chiave, quindi tutta la relazione che nel tempo è stata costruita. Per cui cerca di concentrarti su quello e chiediti come posso fare a mia volta per costruire una relazione così forte con i miei clienti. Allora in quel caso, alla tua proposta, ecco che risponderanno fermativamente e decideranno di sposarti. Con questo è tutto davvero e ti saluto. Ciao!